Innanzitutto la protagonista, vero? Chi è la protagonista? Chi è? Quasi! Ah, preso! Cazzo! Sei veloce, eh? Ho! Hai! ... ... ... ... ... ... si veloce ok ah ah oh ah 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 Sì Sì già guarita? ti fa ancora male eh? poverina poverina eh sì sì poverina non stavi male? dai 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 dai